Benvenuti all'ascolto di Radio Giano Public History Amici di Radio Giano ben ritrovati ad una nuova puntata della vostra radio di storia preferita in vostra compagnia sempre il vostro speaker Luca Ferrone un saluto a Marco Lodi alla regia ma soprattutto un caloroso benvenuto e un saluto ai nostri ospiti di questa sera direttamente dalla Lombardia do il mio benvenuto a Fabrizio Craculici attivista pacifista, videomaker, ricercatore storico nel tempo libero collabora con la signora dell'intervista che vi presenterò tra poco nella redazione dei suoi libri ciao Fabrizio abbiamo poi Laura Tussi in collegamento giornalista scrittrice si occupa di tematiche inerenti alla non violenza e il pacifismo ciao Laura ciao rispondo prima io ciao ciao benvenuta a Radio Giano grazie per aver accettato il nostro invito io vi ringrazio moltissimo siete una bellissima realtà cosmopolita direi cosmopolita grazie mille allora Laura oggi con te e con Fabrizio parleremo di una tematica molto potessimo dire intima per la vostra famiglia perché parleremo di un qualcosa che è successo proprio alla tua mamma un tuo familiare molto stretto è una puntata che scaverà a fondo nell'area personale di noi tutti quindi amici ascoltatori veramente mettiamoci comodi perché sarà un viaggio verso la parte più intima della conoscenza di una persona Laura aprirà la sua storia familiare ringraziamo per questa grande apertura subito dopo un breve stacco musicale Radio Giano Public History la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura Radio Giano Public History ci puoi trovare su spreaker.com e sul nostro sito gianophaps.it eccoci quindi tornati con amici di Radio Giano in diretta dal nostro studio virtuale con Laura Tussi ciao Laura e benvenuta a Radio Giano io vorrei subito entrare nel vivo della nostra intervista se tu sei d'accordo chiedendoti la tua storia personale e soprattutto la storia della tua mamma allora la mia storia personale e cos'è successo alla mia mamma diciamo che la mia testimonianza sulla sofferenza di mamma è comparsa per la prima volta per intero sul sito che vorremmo citare adesso per ringraziarli Italia che cambia che ha pubblicato in questa mia testimonianza due disegni realizzati da mamma e il pezzo si intitola arte per combattere il decadimento cognitivo una figlia racconta la storia di sua madre che soffre di Alzheimer infatti mamma purtroppo soffre di questa malattia e l'espressione artistica noi la consideriamo come un'arma per combattere queste malattie neurodegenerative perché l'Alzheimer è una malattia neurodegenerativa è quasi un ossimoro dire l'espressione artistica è un'arma ma perché l'espressione artistica è qualcosa di bello che esprime bellezza, cultura, pace eccetera quindi come collaboratrice di Radio Giano apro il mio cuore e voglio raccontare la storia di mamma del suo percorso all'interno della malattia e delle opportunità offerte dalla creatività e dall'arte noi siamo ben felici di ascoltarti Laura veramente grazie quindi ti cedo la parola iniziamo questo viaggio alla scoperta della storia della tua mamma della creatività e dell'arte che sempre accompagnano mamma infatti vorrei raccontare proprio questa storia semplice ma dolorosa una storia come tante purtroppo ma che riguarda nello specifico mia madre e la sua malattia e penso che questa mia breve testimonianza sia d'aiuto a tutte le famiglie a tutte le persone che si trovano in queste circostanze infatti mamma intorno ai 60 anni è stata colpita da un'ischemia cerebrale lei che poverina ha sempre sofferto di una forte cefalea e questa ischemia cerebrale a detta dei neurologi le ha letteralmente bruciato parte delle cellule di un emisfero del cervello quindi i postumi di questa ischemia cioè i sintomi che sono sopraggiunti a questa ischemia sono stati una progressiva e importante perdita delle facoltà delle sue capacità mnemoniche di ricordare i fatti di tenere la mente eccetera quindi la perdita della memoria questa perdita della memoria ha assunto i connotati progressivamente di una demenza senile grave e adesso purtroppo a me è di un principio di Alzheimer adesso mamma a luglio compie 81 anni e lei soffre molto per questa sua condizione patologica infatti ha frequenti crisi di pianto e purtroppo lei ha questi continui ricordi parenti che ormai sono trapassati che lei invece invoca e crede ancora in vita e per cui soffre veramente moltissimo cioè cerca ancora i parenti morti soffre moltissimo e si dispera per questi parenti morti quindi bisogna ricordare che mia mamma quando stava bene parlava sempre di mio nonno resistente nella seconda guerra mondiale contro il regime nazifascista perché era un sabotatore dell'industria bellica alla Breda di Siesto San Giovanni e sabotava i tralicci del telefono quindi si schierava contro il regime nazifascista mia mamma raccontava spesso questa storia del nonno che sfuggiva spesso alle mitragliate dei fascisti e diciamo che mamma nella sua vita ha sempre avuto una vita ricca di creatività perché lei confezionava vestiti creava proprio i modelli dei vestiti quindi li disegnava e confezionava per noi due sorelle siamo io e mia sorella Stefania confezionava degli abiti degli abiti disegnati proprio da lei e in più ricamava su stoffa cioè faceva proprio disegno su stoffa quindi diciamo che per sopperire a questo fortissimo disagio esistenziale che è dovuto a un quadro clinico molto pesante e molto grave io cerco di aiutare mamma con l'aiuto delle badanti con l'educatrice l'educatrice è una figura della regione Lombardia che viene a trovarci solo una volta alla settimana purtroppo non può venire a trovarci più di una volta perché le risorse economiche scarseggiano quindi con il nostro aiuto spesso mamma disegna a mano libera oppure colora delle grafiche prestampate quindi la forza di questo suo colore di questo tratto indica una particolare predisposizione per il disegno quindi per questa forma d'arte infatti mamma quando stava bene quando stava bene seguiva anche me e mia sorella che ci mentavamo cioè veramente seguivamo frequentavamo un'accademia di pittura nel tempo libero oltre che seguire il liceo oltre che fare il liceo quindi diciamo che una vena artistica comunque c'è sempre stata all'interno della tua famiglia non è qualcosa che è nato con la malattia ma c'è quasi un richiamo di un qualcosa che c'è da sempre che c'è da sempre sì infatti io e mia sorella eravamo portate sia per l'arte poi entrambi abbiamo fatto il liceo classico poi mia sorella ha smesso ha fatto il liceo artistico io ho continuato con gli studi classici continuo a scrivere continuo a scrivere e ho abbandonato un po' il disegno e la pittura anche se con mamma in qualche modo indirettamente mi sto riavvicinando infatti il suo impegno e la cribbia proprio nella concentrazione del dover ideare questa grafica di disegno sono per lei un forte stimolo anche per la sua ideazione per le facoltà ideative cerebrali in un soggetto che è così emotivamente fragile come mamma emotivamente fragile perché l'alzheimer è sostanzialmente fragilità emotiva e anche cognitiva infatti la forza di queste delle sue facoltà ideative quando disegna prende il sopravvento sulle seppur labile capacità cognitive sulla sua spiccata emotività e sofferenza psichica senti Laura una domanda mi è venuta adesso mi è sorta nel backstage quando abbiamo preparato la puntata tu mi hai fatto leggere l'articolo che hai citato poco anzi che invita anche gli amici ascoltatori a leggere lo si trova sui social media tranquillamente è una riflessione molto importante secondo me anche molto bella tu l'hai fatta sul disegno e sul colore appunto come ci stai dicendo possiamo dire che questi due strumenti per sostituire la parola armi come tu hai detto nella preparazione questi due strumenti sono un punto di contatto come un ancora che permette a Laura Tussi di comunicare ancora con la mamma nonostante la difficoltà legata dall'Alzheimer dovuta all'Alzheimer sì 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 infatti noi praticamente questo suo cimentarsi nel disegno è duale è duale perché noi ci ritroviamo in questa forma d'arte ed è un forte aiuto di distrazione anche rispetto al suo dolore emotivo e psichico che è tipico di questa malattia dell'Alzheimer che pervade mamma inoltre credo di offrire di avere offerto un supporto io credo di offrire il supporto che sono in grado di dare a mamma nei limiti anche della mia vulnerabilità emotiva perché come figlia sono vulnerabile emotivamente vedendola star male perché lei ha spesse volte crisi di pianto dove invoca i genitori i parenti scomparsi invoca la casa di famiglia erano una famiglia estesa le tipiche famiglie di una volta invoca tutti i suoi parenti papà quando lei era in grado di camminare perché adesso lei non cammina più quando era in grado di camminare la portava davanti a questa casa e svaniva tutto come in un sogno svaniva tutto come in un'allucinazione psicotica diciamo quindi credo di offrire anche supporto oltre che fisico a mia mamma con una vicinanza anche intrisa di gioco di scherzo e anche di complicità a volte a parte che sia con il disegno ma anche quando ad esempio insieme scherziamo quando lei non ha queste crisi di pianto forte perché ha frequenti alti e bassi non essendo ancora conclamata la malattia cioè non essendo ancora acclarata proprio all'inizio ha delle fasi in cui lei si sente bene allora in quelle fasi scherziamo col papà ci alleghiamo contro di lui a prenderlo in giro e lei risponde davvero con grandi sorrisi perché i miei genitori in realtà si vogliono non in realtà veramente si vogliono ancora molto molto bene nonostante le difficoltà mio padre dice sempre io non potrei mai andarmene anche se è una situazione brutta brutta ma io voglio proprio molto bene a mia moglie perché merita tanto è un pensiero molto molto profondo non è facile anche nel nel dolore ritrovare l'unità e la forza anche di comunque accompagnare quelle persone che poi hanno questo questo percorso è una scelta proprio di vita è un percorso che si fa insieme e comunque la seguo nei disegni che realizzano e che secondo noi risultano essere proprio un vero miracolo di bravura date le sue condizioni sono qualche qualche anno fa erano molto più centrati come disegni molto più non so i fiori erano più proprio fiori adesso che quando lavora a mano libera si vede che è degenerata la sua la sua manualità ecco la sua espressività è un po' degenerata e per lei il disegno non è solo uno sfogo un'arte per veicolare le sue tensioni la tristezza la grave emotività ma è secondo me e secondo noi è un riscatto da questa sua grave condizione io noi come sorelle le abbiamo dato un riscatto un motivo per riscattarsi da questa sua grave condizione con l'arte perché mia mamma è una signora che è la quinta elementare lei ha fatto l'operaia ha lavorato nella catena di produzione di una fabbrica ha fatto praticamente ha contribuito lei del 41 ha lavorato a 12 anni ha contribuito nel dopoguerra a risollevare il paese con il suo lavoro con il suo duro lavoro ha partecipato agli anni caldi della contestazione ha visto gli anni forti dello stragismo di matrice fascista quindi ha seguito anche la storia era una persona che si interessava all'attualità diciamo una testimone della storia della nostra storia recente della storia del nostro paese ma anche ripeto quando raccontava del nonno del nonno resistente che non era un partigiano perché non apparteneva a gruppi partigiani ma era un resistente contro il nazifascismo quindi è sempre stata intresa un po' di questi di questi slanci idealistici anche se non era una persona di grande cultura aveva solo la quinta elementare ma era proprio una persona secondo me idealista la mamma certo senti Laura io ti chiedo di rimanere con noi in linea dobbiamo ridare un attimo la diretta alla redazione torniamo subito cari amici ascoltatori di Radio Giano per continuare questa interessante chiacchierata con Laura Tussi linea allo studio Radio Giano Public History la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura Grazie a tutti Grazie a tutti stiamo parlando con Laura Tussi giornalista scrittrice della storia personale della sua famiglia ma soprattutto della sua mamma colpita da Alzheimer e come questa malattia poi pregiudichi la persona ma anche la memoria della persona e tutto il suo bagaglio di cultura di ricordi che ha con sé con sé Laura tu prima dello stacco musicale parlavi di vulnerabilità ed è una parola secondo me centrale nella in questa riflessione che stiamo facendo questa sera io prima della puntata sono andato a leggermi un po' di statistiche dell'OMS che constata come l'Alzheimer stia aumentando la sua presenza nella popolazione dell'Europa occidentale e ti vorrei chiedere una cosa tu che sei anche molto attenta a queste tematiche tu che hai una certa attenzione predisposizione verso le tematiche del pacifismo dell'attenzione verso gli ultimi ti vorrei chiedere se la vulnerabilità alla fine ci rende più umani cioè se attraverso la vulnerabilità in un qualche modo decadono tutti i muri che costruiamo e riscopriamo l'essenza dell'essere umano di tendere quello c'è la mano al prossimo in difficoltà e di aiutarlo nei momenti di difficoltà io penso proprio che questo sia vero in queste difficoltà si diventa più umani tanto che nel nostro percorso a proposito di umanità non solo da parte nostra di familiare ma abbiamo trovato anche l'umanità di persone esterne tra cui un unitante medico il dottor Giulio Colombo già vice primario psichiatra che ha seguito mamma e il dottor Colombo ha proprio dichiarato conosco da anni la signora e ritengo che questa modalità di espressione con il disegno sia un'importante creativa risorsa che contrasta il decadimento cognitivo e l'appiattamento e l'appiattimento inesorabilmente sopraggiunti ecco il dottor Colombo è una bravissima persona che ci segue segue un po' tutta la famiglia segue me perché io gli parlo spesso di quello che avviene di cosa di come dei progressi di mamma sono io che mi faccio l'intermediaria con lui che è lo psichiatra neurologo che ha steso anche la dichiarazione per dichiarare mamma l'invalidità di mamma mi spiego quindi e comunque penso comunque che soprattutto questa grande motivazione creativa che noi gli abbiamo dato sia un'importante significativa risorsa per mamma e anche per tutti coloro che sono affetti da sindrome neurologiche e psichiatriche infatti la correlazione tra sindrome neurologiche e psichiatriche che ha detto anche di questo nostro dottore giulio colombo è molto stretta è molto correlata perché sono sempre patologie che riguardano il cervello e quindi i disegni di mamma quando stava bene lei raccontava sempre delle incredibili avventure di suo papà ne sai qualcuna ce la vuoi raccontare e ad esempio ad esempio anche mio zio materno il fratello di mia amma diceva sempre il nonno era un cane sciolto cioè non apparteneva a gruppi partigiani ma era un sabotatore sabotava i tralicci del telefono e rallentava la produzione bellica però soprattutto con i tralicci del telefono quando era un ragazzotto di vent'anni con i suoi amici eravamo ancora nel ventennio fascista i fascisti mitragliavano sul grano e loro si nascondevano proprio sotto il grano poi mio padre tornava a casa col batticuore questo poi quando ho incontrato mia nonna quando si sono sposati glielo raccontava spesso e quindi è diventata una leggenda familiare ecco quindi quello che Vasco Pratolini avrebbe chiamato il lessico familiare probabilmente no? quei racconti che fanno parte della storia della famiglia certo 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 e quindi vorrei dire che il disegno appunto che questo nostro leitmotiv l'arte non è solo uno sfogo un'arte per veicolare le sue tensioni ma è proprio un riscatto da questa sua condizione e ringraziando mamma per le bellissime rose colorate queste rose da lei interpretate o anche dei paesaggi che stanno accompagnando i miei articoli su vari siti online non ultimo Italia che cambia che ha ospitato questo articolo che ho presentato di cui su cui parlo in cui parlo di mamma appunto e quindi vorrei fare in questo articolo nel post scritto faccio una denuncia anche al fatto che manca lo stato sociale i servizi sociali adibiti alla cura di queste malattie neurodegenerative ma di tutte le malattie in generale scarseggiano c'è mancanza di stato sociale di assistenza nei confronti degli anziani dei più deboli in quanto i governi continuano a investire in armi a investire in guerra sono proprio governi guerra fondai e questo è un crimine da parte un crimine da parte delle istituzioni nei confronti dei più bisognosi e delle frange deboli della società mentre parlando con mamma lei ogni tanto dice bisogna fare la pace non bisogna fare la guerra e lei che infatti è sempre stata tra virgolette ha partecipato anche lei agli shopperi quando era giovane quando lavorava in fabbrica lavorava in una fabbrica dove faceva produzione era proprio in catena di produzione un lavoro no montaggio produzione sì praticamente e quindi era un lavoro molto molto pesante per lei e quindi e spero comunque che questo io delle prospettive future della ricerca medica le vedo sull'Alzheimer ma anche su altre malattie le vedo molto scarse perché in Europa l'Italia è quella che investe meno in ricerca e sanità insieme alla Germania alla Francia alla Spagna è ultima rispetto a queste nazioni Germania Francia Spagna Inghilterra eccetera qui Laura sì torniamo anche su una tematica molto diciamo presente nei dibattiti politici nel dibattito pubblico italiano quello della mancanza di risorse economiche che poi si traduce in pochi investimenti nella ricerca tempo fa sui social circolava non so se l'hai visto se l'hai intercettato anche tu un confronto tra le spese di ricerca in Germania per esempio e quelle in Italia e un singolo lender tedesco investe di più che l'intero paese Italia l'intero sistema Italia sì no è vero siamo proprio alla frutta si può dire che siamo proprio le risorse proprio i servizi sociali scarseggiano infatti parlavo anche con il progetto regione questo progetto che abbiamo attivato io e Fabrizio con l'invalidità per l'invalidità di mamma e loro ci dicono noi più più di tre ore alla settimana tra educatrice e operatore psicomotorio cioè la fisioterapia loro più di tre ore alla settimana non possono darci non possono garantire non possono garantircele volevo dire che spero certo ovviamente la prego regola no spero che questo mio contributo innanzitutto scritto e poi adesso è diventata una trasmissione sia utile per trasformare anche le tante situazioni familiari difficili e dolorose per tutti i familiari che si trovano in queste condizioni e a noi va ancora bene perché siamo agli esordi di questa malattia certo è brutto vedere mamma quando piange e io dico mio papà al telefono papà ma perché piange mamma mi sente perché lei appena mi sente sfocia nel pianto praticamente la sua emotività è come quella di una bambina di due anni tre anni ci hanno spiegato e quindi si mette a piangere perché è emozionata nel sentirmi anche quando mi vede naturalmente poi le passa però a volte sono delle crisi molto lunghe e poi ho già spiegato i sintomi di questa malattia continuano a cercare una casa fantomatica di quando erano la sua era una vera casa di quando erano giovani c'è un ritorno alla gioventù sì 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 e niente spero che questo mio contributo sia utile per trasformare le tante situazioni familiari in difficili travagliate dolorose di altre persone e famiglie nelle medesime condizioni guarda ce lo auguriamo tutti Laura perché infatti volevo chiedere quali sono i tuoi progetti personali futuri perché se amici ascoltatori se andate a trovare la pagina social di Laura Tussi vedrete che ha una lista molto lunga di articoli di iniziative articoli che si possono anche leggere tranquillamente io l'ho fatto su invito di Laura stessa quali sono i tuoi progetti personali futuri Laura proprio per aiutare anche altre famiglie che si trovano o che si troveranno purtroppo in questa stessa situazione vorrei tanto che anche qualcun altro si accorgesse di questa mia testimonianza e che ci chiamassero a testimoniare ho visto che c'è stato uno speciale su report mi sembra report di Michele Farina un giornalista Rai la cui mamma era affetta ad Alzheimer e quindi mi piacerebbe chiedo anche a questo Michele Farina di intercettarci in qualche modo da radiogiano faccio questo appello e quindi a tutti coloro che vorranno intervistarmi noi ci saremo non non penso di essere stata esaustiva perché non sono un medico non sono un medico non sono uno psichiatra non sono un neurologo però penso che per mamma che per queste malattie sia molto importante continuare a fare a creare ad esprimersi chi è capace di scrivere deve scrivere cioè deve mettere in moto tutte quelle parti del cervello che sono intaccate proprio da questa da questa malattia da questa malattia ecco intaccate da questa malattia e quindi e volevo dire che le mie prospettive future sono quelle di continuare a scrivere su siti sui miei temi del pacifismo sul pacifismo sulla non violenza sul disarmo anche nucleare perché noi siamo parte con delle associazioni che sono affiliate a associazioni non violente sono affiliate a una rete internazionale la rete ICAN per l'abolizione degli ordini di istruzione di massa nucleari per il disarmo nucleare universale questa rete ICAN è stata insignita premio Nobel per la pace nel 2017 quindi questo premio Nobel richiade un post tutte le associazioni affiliate a questa rete internazionale e siamo noi i testimoni primari di questo premio Nobel che portiamo sempre durante la presentazione di cui testimoniamo sempre durante la presentazione dei nostri libri i nostri libri abbiamo scritto circa una decina e altri libri anche con nostre presentazioni curati da noi quindi siamo sulla ventina di libri anche di più con Mimesis edizione facciamo un po' di pubblicità anche a Mimesis edizione facciamo un po' di promozione comunque di eventi e di iniziative lodevoli dal punto di vista sociale quindi va benissimo anche un po' di promozione tramite Radio Giano quindi un breve stacco musicale torniamo subito dopo linea alla redazione Radio Giano Public History la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura Radio Giano Public History ci puoi trovare su spreaker.com e sul nostro sito gianophaps.it Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a presto che zero chiedo a Fabrizio se hai in linea Fabrizio mi senti Fabrizio? Sì, aspetta un attimo Eccoci, eccoci facciamo il cambio di cuffie ecco, ciao Fabrizio benvenuto a Radio Giano Ciao, grazie buonasera a tutti e a tutti gli ascoltatori Senti Fabrizio io con te vorrei farti una domanda una domanda che è un po' che è un po' la storia anche tua una domanda che ovviamente molti si chiedono perché come abbiamo detto prima con Laura la malattia non riguarda solo la mamma cioè il paziente e Laura che è la più diretta interessata ma riguarda anche tutti i familiari poi che gravidano intorno alla persona colpita d'Alzheimer quindi io ti vorrei chiedere come cambia la vita dei familiari quando l'Alzheimer entra in una famiglia e poi rovescia tutta la vita tutta la cosa cioè la modifica immagino completamente certo, certo e sì purtroppo è così perché immaginate dei figli che sono abituati prima di tutto a vedere i propri genitori come dei veri e propri punti di riferimento quindi persone autonome persone capaci con capacità decisionali persone che fino a pochi anni prima sono stati in molti casi risolutivi in problematiche legate a noi noi figli quindi immaginare di trovarsi un bel giorno gradualmente o in modo anche più rapido trovarsi nella condizione di vedere questi riferimenti vacillare e piano piano diventare loro stessi concedetemi la parola non più i veri e propri genitori ma quasi dei figli e questo è un rovesciamento dei ruoli quasi esatto quindi è una condizione dove chiaramente poi dipende anche dalla sensibilità dei figli io parlo nella mia condizione la condizione di Laura tra l'altro io ho ancora i miei genitori e sono anche loro genitori sofferenti mio padre soffre di parkinsonismo ha bloccato su una praticamente su una carrozzina ha mobilità limitatissima con tremori molto lievi però persona lucida e presente quindi vedere una persona che ti ha condotto in diverse fasi della vita ti è stato vicino ti ha dato consiglio ora io vedo e agisco nei confronti dei miei genitori quasi come fossi loro padre è una condizione particolare che da un punto di vista da un lato rattrista perché ti carica di una responsabilità che non avresti mai immaginato però dall'altro genera una condizione dove vedere i punti di riferimento da un altro punto di vista cioè quasi come se fossero figli mostra di loro delle cose che non avevano mai mostrato prima quindi vedere non so faccio l'esempio di mio padre vedere mio padre è persona molto riservata non tanto giocherellone scherzosa con noi da piccoli anche se si è fatti in quattro per fare tutto vederla ora ridere scherzare far battute sembra quasi di aver di essere tornati piccoli e avere un complice o vedere delle cose che magari da piccoli ci aspettavamo ma invece le vediamo ora e la stessa cosa vale per i genitori di Laura per sua mamma e suo padre chiaramente la persona più diciamo il familiare più sofferente di questa situazione decisamente il padre e quindi il marito di Angela della mamma di Laura e immaginiamo una persona che ha condiviso tante esperienze ha avuto i figli il lavoro i sacrifici anche i momenti belli i viaggi trovarsi gradualmente in una condizione dove tutte queste cose uno non può più farle e due deve rimodulare completamente la sua esistenza prima due persone che conducevano una vita regolare i loro giri andare a fare la spesa ora lui si ritrova nella condizione di accudire quindi non più di solamente vivere assieme ma di accudire propria moglie la propria moglie quindi questa è un po' diciamo quello che vive la famiglia io voglio tantissimo bene alla famiglia di Laura e tanti anni che io e Laura siamo assieme viviamo assieme viviamo in simbiosi con le nostre famiglie gli uni fisico di quelle figure che noi abbiamo sempre visto come i nostri punti di forza e non è facile però senti Fabrizio al volo proprio un consiglio che lanceresti a tutti i familiari di persone colpite d'Alzheimer il primo proprio che ti viene in mente è basato anche sulla tua esperienza cosa consiglieresti? Voler tanto bene i propri genitori il bene è assoluto su ogni cosa le persone che in quel momento sono fragili in realtà sono cariche di una grande energia una forza una forza emotiva un qualcosa che riesce a parlare direttamente a corde che in altri momenti storici di vita con i familiari non sono mai stati toccati queste corde ora si svegliano e fanno danno alla persona che sta vicino quindi al familiare che assiste la persona sofferente danno la possibilità e l'opportunità di gioire nel dare io quindi il concetto del dono i miei genitori per 20 30 40 anni hanno donato a me oggi io mi sento e questo è il consiglio dobbiamo sentirci dobbiamo farlo mi sento di restituire qualcosa sarà sempre poco però io penso che il dono è la volontà di concedere momenti di tregua anche alla sofferenza di queste persone di questi familiari sia un'opportunità per tutti non solo per il malato ma anche per la persona che fa il gesto quindi tanta umanità tanto amore perché queste persone hanno bisogno e ahimè come diceva Laura la sanità oggi in Italia ma in generale sta veramente sacrificando tutto quello che invece dovrebbe essere un diritto conquistato da persone che hanno lottato e qui mi rifaccio alle esperienze appunto di che raccontava Laura del nonno anche mio nonno è stato un resistente ha fatto 14 anni di confino in ex Yugoslavia e quindi per onorare tutti questi sacrifici per onorare queste persone che ora soffrono noi dobbiamo anche attivarci denunciare mobilitarci perché non si può sacrificare la vita di persone cioè non concedere cure adeguate mezzi adeguati a persone che hanno contribuito alla crescita alla rinascita della nostra nazione è uscita da una guerra e a oggi oggi e alle nuove e future generazioni anche questo noi dobbiamo ragionare su quello che lasciamo e dobbiamo lasciare il meglio ai giovani ai meglio ai futuri ai futuri italiani certo ai nostri futuri figli e che continueranno poi la memoria di ciò che è stato è certo io Fabrizio ti ringrazio del tuo intervento e del tuo pensiero ma di nulla vi ringrazio a te e a Laura per essere intervenuti ai microfoni di Radiogiano grazie 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 vi mando un saluto e un saluto anche a tutti voi ascoltatori amici di Radiogiano che continuate a seguirci e che calorosamente ci fate sentire anche la vostra vicinanza seppure vi connettete dagli angoli più remoti del pianeta abbiamo ascoltatori in India in Perù negli Stati Uniti noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata ciao Laura ciao Fabrizio ciao grazie un saluto a Marco alla redazione alla prossima puntata ciao grazie l'associazione in promozione sociale Giano Public History promuove gli studi storici e la loro comunicazione pubblica attraverso un approccio rigoroso e avvalendosi di storici diversi università italiane contribuisce all'affermazione della cultura storica come risorsa utile per lo sviluppo sociale e culturale delle comunità e dei territori a tal fine combatte tutte le forme di manipolazione e mistificazione del passato nonché le pratiche di disinformazione dell'opinione pubblica fedele alla mission della Public History Giano Public History APS fa storia per il pubblico e con il pubblico grazie per aver ascoltato Radio Giano Public History Grazie a tutti